ciao qui matteo bellini di chef del benessere ti do il benvenuto in questa nuova videopillola nella quale ti parlerò di un accostamento veramente inusuale quello tra l'acciuga e l'ananas devi sapere che in vietnam si prepara il nuoc nam una salsa a base di pesce solitamente acciughe fermentate lime peperoncino piccante e zucchero una salsa simile ma ancor più pungente nel gusto che si utilizza di solito per accompagnare carne di manzo o pesce fritto è preparata appunto miscelando le acciughe con l'ananas il peperoncino piccante lo zucchero l'aglio e il succo di lime questo abbinamento ti potrà sembrare insolito ma credimi una volta che l'avrei provato non potrai più farne a meno ci vediamo domani mattina alle 8 con il prossimo video io ti saluto ti mando un abbraccio e come sempre ti auguro buona cucina